Musica Mercoledì 28 luglio, buongiorno a tutti e bentrovati puntuali anche questa mattina per il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Il momento di scorrere assieme ai titoli principali dei quotidiani di oggi ma come sempre iniziamo dando uno sguardo al meteo e alle temperature che si registrano in queste prime ore del giorno in regione. Iniziamo anche con una bella immagine che ci arriva da Forni di sopra dove in questo momento il termometro segna 13 gradi e 8 decimi. Rimanendo in montagna 12 gradi e un decimo a Sappada e poi invece sul monte Zoncolan 12 gradi e 6 decimi. A Tarvisio sul monte Lussari 13 gradi e mezzo, 13 gradi e 7 invece a Fondovalle in città a Tarvisio. Sul piancavallo 13 gradi e 7 e poi invece scendendo verso la pianura Tolmezzo 13 gradi e 6, a Udine 17 gradi e mezzo, 17 gradi e due decimi a Pordenone, 19 a Cividale, 17 e 6 a Cervignano, 19 gradi e ottodecimi a Gorizia e qui vediamo un'immagine che ci arriva da Ronchidei e Legionari. E poi andiamo sulla costa, andiamo nel capoluogo regionale Trieste dove in questo momento il termometro segna 23 gradi e 8 decimi con una temperatura dell'acqua del mare superiore 25 gradi e 9. A Grado il termometro segna 21 gradi e 3 decimi, a Lignano 22 gradi e 7 con una temperatura dell'acqua del mare di quasi 26 gradi, 25 gradi e 9 decimi. Dopo le piogge, il brutto tempo, il vento forte della serata di ieri che ha causato anche dei danni in alcune località del Friuli e Venezia Giulia, poi lo vedremo anche sui quotidiani di oggi. Dicevamo dopo il maltempo di ieri, oggi come abbiamo visto anche nelle immagini delle webcam, la nostra regione si è svegliata all'insegna del bel tempo. Adesso andiamo a vedere quello che accadrà oggi per quanto riguarda il meteo. Un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Correnti instabili nella giornata di mercoledì apporteranno dei fenomeni sul Friuli-Venezia Giulia, soprattutto nella seconda parte del giorno. In dettaglio tra Udine e Pordenone avvio di giornata. Nel complesso buono non mancheranno infatti degli spazi soleggiati. Dal pomeriggio segnalo l'arrivo di fenomeni, dapprima sui settori montuosi, specie tra Carnia e Tarvisiano. E in serata potranno interessare anche le zone pianeggianti, non esclusi fenomeni, localmente di forte intensità. Temperature massime in lieve ripresa con valori fino ai 33 gradi. E diamo un accenno anche alla situazione prevista tra Gorizia e Trieste. Tempo nel complesso buono per gran parte del giorno, ma anche qui in serata è atteso un peggioramento con l'arrivo di fenomeni a carattere sparso. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi. Preannuncio che il tempo tornerà a migliorare per la giornata di giovedì grazie al rinforzo dell'alta pressione. Con questo per il momento è tutto, ma per sapere nel dettaglio cosa accadrà proprio da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo. E dopo il meteo siamo pronti per iniziare a scorrere i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. C'è il dibattito sull'obbligo del vaccino, in particolare per il mondo della scuola, in primo piano. Allora vediamo il Corriere della Sera, che titola così, in apertura, Piano per il ritorno in classe, un decreto eviterà la didattica a distanza, l'ipotesi subito il Green Pass su navi e aerei. I presidi dicono per gli studenti obbligo di immunizzarsi. Bianchi vede le regioni e la maggioranza è divisa sulla decisione da prendere. E questa è l'apertura del Corriere della Sera, che poi sempre in tema Covid mette in primo piano quest'intervista all'immunologo Abrignani, che dice vaccinati meno contagiosi, solo il 10% di chi si è vaccinato è contagioso. Dosi ai minori più benefici che rischi, dice sempre l'immunologo. E poi a centropagina invece, come accade ormai da qualche giorno, troviamo una notizia che ci arriva da Tokyo. Qui vediamo una foto dell'atleta, della ginnasta Simon Biles. Lacrime e demoni di Simon Biles. Via dalla finale, il ritiro dell'atleta. Ora penso alla mia salute mentale. Ieri impegnata in gara, l'atleta ha sbagliato al volteggio e si è ritirata. L'America della ginnastica perde la sua campionessa, scrive il Corriere, che confessa, ho demoni nella testa, devo pensare alla mia salute. Queste le parole dell'atleta al termine della gara. E poi per la cronaca in Italia, il maltempo, fango e frane sul lago di Como per il maltempo. I vigili dicono non uscite. L'ondata di maltempo è iniziata a lunedì con violenti temporali, evento forte, ha messo in ginocchio Como e diversi centri del lungo lago. disagi a Cernobbio e poi in tante altre località. Case in base dal fango, l'appello dei vigili del fuoco, appunto, non uscite. Vediamo anche la prima pagina di Repubblica. Anche qui vediamo i due temi, le due notizie in primo piano sul Corriere della Sera. Le troviamo anche qui. Allora iniziamo dal taglio centrale con la lotta al Covid. La scuola dice no al governo. Presidi e insegnanti in rivolta contro l'incertezza dei protocolli di sicurezza per il nuovo anno. I presidi chiedono regole su come gestire i contagi o tornerà la DAD. E il ministro Bianchi cerca la mediazione. E poi vediamo ancora i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo i quali il 99% dei morti da febbraio non era vaccinato o aveva solo una dose. E poi vediamo a centropagina il dibattito sulla riforma della giustizia. La riforma torna nel pantano dei veti incrociati, scrive il Corriere. Nel taglio alto invece dicevamo le Olimpiadi con due storie di segno opposto, quella di Federica Pellegrini alla quinta finale olimpica e quella di Simon Biles che invece si è ritirata. La forza e la fragilità, scrive Repubblica. Le donne protagoniste a Tokyo, Pellegrini infinita, Biles in tilt. Le donne ti sbattono a terra, ti infilzano, ti sollevano per aria e poi si commuovono. Questo dice lo sport italiano con un argento e due bronzi nella giornata in cui Federica Pellegrini diventa la prima a centrare cinque finali olimpiche nella stessa gara e Simon Biles invece rivela la sua fragilità. E tra i bronzi di ieri c'è anche quello della spada a squadre e tra le atlete c'è anche Mara Navarria che quindi porta in Friuli Venezia Giulia un'altra medaglia olimpica dopo quella di Mirko Zanni. Poi leggeremo anche queste cronache sui quotidiani locali ma adesso continuando con la stampa nazionale andiamo proprio sulla stampa che mette nel taglio centrale anche qui proprio le storie di segno opposto delle due atlete Pellegrini e Biles fede una donna chiamata record e invece Biles l'insostenibile peso del mondo. Ma andiamo a vedere l'apertura della stampa la scuola a settembre, scuola in presenza il dibattito appunto sulla vaccinazione e sulla ripresa della scuola in presenza e ancora al centro dell'attenzione. Chiudiamo la stampa e andiamo sul fatto quotidiano che nel taglio centrale in apertura mette ancora il dibattito sulla riforma della giustizia come viene ormai da giorni la giustizia di Lega e Forza Italia a salvare Berlusconi dal Rubiter Conte chiede meno impunità Salvini ancora di più e poi Cartabia incartata Conte dice modifiche o niente fiducia pure Fratelli d'Italia vuole escludere i reati di mafia però le destre di governo fanno muro su tutto e questa è l'apertura del fatto quotidiano di oggi andiamo anche sulla prima pagina del manifesto che invece ci porta all'estero con questo incidente avvenuto a Leverkusen non c'è pace in Westfalia un fungo chimico alto 3 km dopo l'esplosione nel polo industriale di Leverkusen nel land tedesco già duralmente colpito dalle alluvioni della settimana scorsa due operai morti quattro dispersi e 31 feriti allarme rosso della protezione civile estrema minaccia per la popolazione restate in casa ancora sempre sulla stampa nazionale vediamo anche la prima pagina del gazzettino diamo uno sguardo a nord-est modello nord-est ora è scontro si prende spunto dall'indagine che ha interessato i vertici della grafica Veneta che agita il dibattito pubblico il PD dice specchio di un sistema basato su sfruttamenti ed evasione la lista Zaia invece gravi accuse a un territorio virtuoso Carraro, presidente di Confindustria Veneta dice ingeneroso qui si investe e si fa welfare e poi vediamo le prime righe dell'articolo di apertura l'inchiesta che coinvolge grafica Veneta agita al dibattito pubblico va ripensato il modello nord-est non può essere basato su competizione a ribasso sfruttamento dei lavoratori stranieri e evasione fiscale tuona la vice capogruppo del PD in regione Camani replica la Lega gravissime insinuazioni offendono i nostri artigiani e imprenditori il modello produttivo del nord-est e poi vediamo ancora un approfondimento appunto sull'inchiesta in corso il reportage vita da schiavi botte e minacce anche in Pakistan e poi sempre per quanto riguarda la cronaca la questione Covid Novax scatta la linea dura sui sanitari Novax ok alle sospensioni ieri il via libera del governo in Veneto coinvolti oltre 18 mila addetti della sanità e poi le olimpiadi con fede incrollabile titola il gazzettino la pellegrini nella storia in finale per la quinta volta e poi a proposito di olimpiadi di ieri vertice con il ministro Giovannini vertice del governatore Zaia per fare il punto sugli interventi da realizzare in vista dei giochi Milano-Cortina del 2026 si è parlato anche di autonomia però con il ministro Gelmini e poi andiamo anche nel taglio basso e vediamo la storia di una fabbrica per sole donne la sfida dell'imprenditore l'imprenditore è Renato Riles fondatore di Eurols S.p.a azienda metalmeccanica impegnata nel settore tubi e nell'industria del filo con sede ad Attimis che oltre alle due sedi produttive di Villa Santina può contare anche su sedi in Messico Brasile e Cina e che ora punta all'apertura di un nuovo stabilimento in regione per dare lavoro in particolare alle donne spazio anche alla riforma del fisco pignoramenti più facili sui conti correnti torneremo come sempre più tardi sul gazzettino sul gazzettino del Friuli adesso continuiamo la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e andiamo a vedere la prima pagina del Corriere del Veneto rimanendo a nord-est questa è l'edizione di Treviso e Belluno vediamo in apertura sanità il giro di vite su 19.000 no-vax la svolta infermieri la categoria meno vaccinata 2.600 i medici nel mirino Padova la provincia con più provvedimenti ancora anche qui le olimpiadi la regina del nuoto e la sua vita da record Fede ora è la leggenda mito oltre le medaglie con la quinta finale olimpica nei 200 stile e poi l'indagine l'inchiesta sul caporalato Trentino a Grafica Veneta Noi Pestati il racconto dei pakistani l'amministratore delegato coinvolto ovviamente nell'inchiesta dice l'azienda all'oscuro delle violenze chiudiamo anche il Corriere del Veneto e rimanendo sulla stampa nazionale andiamo a vedere adesso la prima pagina del 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 giornale ecco qua il titolo di apertura a rischio de Pasquale il giudice anti Berlusconi giustizia allo sbando scrive il giornale il PM noto per le indagini sul CAV per il suicidio Cagliari rischia di essere cacciato per il caso Amara e poi leggiamo anche le prime righe tre giorni prima dell'udienza davanti al CSM che deve decidere la sorte del PM Paolo Storari accusato dalla procura generale della Cassazione di avere violato una sfilza di regole nella gestione dei verbali del pentito Pietro Amara sul caso Eni trapela la notizia che la stessa sorte potrebbe toccare anche sul fronte opposto a Fabio De Pasquale il procuratore aggiunto che cercò di usare i verbali di Amara per influenzare l'esito del processo Eni e poi vediamo a centropagina la verità sul virus covid non vaccinato il 99% di chi muore anche qui ci sono i titoli i dati dell'Istituto Superiore di Sanità ancora il dibattito sull'immunizzazione nel mondo della scuola obbligo di siero per prof e alunni morta undicenne figlia di Novax spazio anche alla festa per gli 80 anni di Riccardo Muti maestro della vera cultura italiana un simbolo di eccellenza nel mondo scrive il giornale vediamo anche la prima pagina della verità in ospedale rappresaglie su chi non si è vaccinato scrive la verità gli emuli di Burioni si scatenano medici e infermieri sul web minacciano di seviziare i malati di covid che non si siano iniettati almeno una dose ASL Toscana costretta a intervenire per sconfessare due dipendenti ma tira un'aria pesantissima andiamo a vedere anche la prima di Libero arrivano le rogne per il presidente del consiglio ora Draghi rischia la faccia e la pelle i temi a rischio Green Pass scuola giustizia recovery la palude della politica frena super Mario scrive Libero ancora sempre sulla stampa nazionale andiamo a vedere anche il sole 24 ore che titola Corsa del PIL Italia batte Germania secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale che rialza le stime di crescita per il 2021 dell'Italia più 4,9% dal più 4,2 le previsioni aggiornate danno un più 3,6% invece per l'economia tedesca il monito sulla disparità i paesi con più vaccini hanno risultati migliori e poi ancora vediamo a centro pagina l'intervista al direttore dell'agenzia delle entrate Ruffini che parla di bonus edilizi cessione dei crediti per 9,4 miliardi dall'economia e dalla finanza allo sport e allora andiamo subito anche sulla prima pagina della Gazzetta che in apertura mette Federica Pellegrini e titola Grazie Fede Pellegrini sei un mito ha centrato la quinta finale consecutiva nei 200 stile libero nessuna c'era mai riuscita dal Citi Mancini alla Simeoni dieci grandi campioni la applaudono e ora lo sport le trovi un ruolo scrive la Gazzetta poi torneremo sulla rosea nel corso della nostra rassegna stampa per dare un'occhiata anche agli altri titoli alle altre notizie vedremo anche le altre prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali e adesso è il momento di spostare la nostra attenzione sulla stampa locale piccolo messaggero veneto Gazzettino ecco qua la prima pagina del piccolo questa è l'edizione di Trieste e vediamo in apertura a scuola di futuro 23 corsi per trovare lavoro l'83% di chi frequenta gli ITS regionali trova occupazione entro un anno dal tecnico biomedico al disegnatore navale le competenze più richieste e questa è l'apertura del piccolo che poi a centropagina mette questa fotonotizia che ci porta in Croazia a Sabioncello il ponte che riunisce il nord e il sud della Croazia chiudiamo il gazzettino scusate il piccolo e andiamo appunto sulle pagine del gazzettino andiamo a vedere il dorso del Friuli questa è la prima pagina dell'edizione nazionale che abbiamo visto prima ecco qua allora il dorso del Friuli e vediamo in apertura Borgo stazione via le panchine il sindaco Fontanini dice ne toglieremo almeno alcune per evitare bivacchi e degrado ieri il sopralluogo amministrazione comunale impegnata per il quartiere in via Lopardi il futuro presidio fisso della polizia locale dunque via le panchine in Borgo stazione per evitare bivacchi Palazzo D'Aronco ha infatti deciso di ridurre le sedute in uno dei luoghi sensibili della città ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Fontanini che ieri assieme all'assessore alla sicurezza Ciani ha compiuto un sopralluogo negli spazi che a breve ospiteranno il presidio fisso della polizia locale in via Leopardi abbiamo intenzione di togliere le panchine ha detto il primo cittadino e lo dico subito prima che qualche sacerdote intervenga come è accaduto quando feci rimettere quelle con i braccioli in via Aquileia ne elimineremo almeno alcune e poi ancora vediamo sempre sulla prima pagina del gazzettino post covid dopo sei mesi schiavi dell'ossigeno fra i pazienti passati in intensiva o in semi intensiva c'è ancora chi ha bisogno dell'ossigeno riabilitazione ad hoc già una dozzina in terapia nel centro della pneumologia riabilitativa al gervasutta di udine dove vengono gestite tutte le patologie del cosiddetto long covid e poi le altre notizie vediamo un'anticipazione delle news sportive con questa foto di Gian Paolo Pozzo a centro pagina Pozzo 35 anni bianconeri il 28 luglio del 1986 Gian Paolo Pozzo ufficializzava l'acquisto dell'udinese da Lamberto Mazza di spalla a Lignano 4 milioni per coprire l'arena Alpe Adria arrivano dalla regione e poi Viale Venezia ok al progetto delle rotatorie ora si andrà a gara via libera è arrivato ieri dalla giunta comunale nel taglio basso si parla del parco solare del parco fotovoltaico nella valle del Cormor in comune di Tricesimo ambientalisti sulle barricate e poi respinto il ricorso contro il collegamento della tangenziale sud il ricorso è stato respinto dal Tar contro appunto l'accordo di programma per la realizzazione del collegamento tra la statale Pontebana e l'autostrada A23 e anche la tangenziale andiamo anche nel taglio alto dove si parla dei lavori del consiglio regionale scintille in assemblea su manovra e temi caldi e poi il No Borders Music Festival con un nuovo nome quello di Vasco Brondi che il 7 agosto terrà il suo concerto in alta quota andata e ritorno dagli inferi nelle selve di Santo Svaldo teatro sosta urbana protagonista in questi giorni nel parco dell'ex ospedale psichiatrico tre giorni di spettacoli e incontri chiudiamo le pagine del gazzettino sul quale ritorneremo poi quando andremo a dare un'occhiata alle notizie sportive e spostiamo adesso la nostra attenzione sul messaggero veneto cominciamo con il messaggero veneto di Udine vediamo i titoli di apertura in primo piano la politica con la finanziaria in discussione in consiglio regionale tutti i fondi per i comuni la regione stanzia 150 milioni per opere pubbliche in decine di paesi poi nelle pagine interne ci sono tutte le poste puntuali per appunto i fondi per i comuni a centro pagina la medaglia di bronzo di Mara Navarria bronzo friulano a Tokyo maravigliosa scrive il messaggero quell'urlo a metà finale poi le stoccate decisive della spadista di Carlino devo tutto al mio Andrea senza di lui non sarei qui ha detto Mara Navarria riferendosi appunto al preparatore atletico al marito Andrea Lococco ancora le altre notizie sempre sulla prima pagina del messaggero veneto di Udine vediamo il maltempo di spalla raffiche di vento cadono alberi in tutto il friuli allora andiamo subito a vedere le foto nelle pagine interne ecco qua tetti scoperchiati alberi abbattuti danni e disagi in tutto il friuli i temporali e soprattutto il forte vento che si è registrato nella serata di ieri vediamo in via Martignacqua Udine questo albero caduto ancora in viale Trieste poi in centro tanti ombrelloni caduti ma ci sono stati danni anche a Romanz di Varmo Civitale del Friuli Colloredo e anche in altre località della regione torniamo in prima pagina e vediamo sempre di spalla forni di sopra in lutto per l'ex sindaco Pavoni morto a 84 anni e poi ancora scontro a Muzzana auto finisce nel fosso grave una ragazza posti raddoppiati e coperti a Lignano l'arena cambia volto le altre notizie vediamo nel taglio alto un nuovo stabilimento di Eurols saranno assunte solo donne e a Civitale nasce la birra Friuli sarà destinata al mercato americano per quanto riguarda il coronavirus focolaio con decine di positivi dopo una festa si è registrato nel Pordenonese dopo una maxifesta in un locale di Roveredo in Piano anche sul messaggero Veneto spazio ai corsi degli ITS in regione che assicurano un lavoro formazione ecco i 23 corsi che assicurano un lavoro scrive il messaggero il confronto governo e sindacati sulle pensioni uscita a 62 anni o 41 di contributi per tutti nel taglio basso in via Leopardi via dopo le siepi via le panchine andiamo anche sulla pagina di Udine del fascicolo dedicato alla città e vediamo un'altra notizia ai 5 milioni per la cultura per il comune visite virtuali nei palazzi storici in arrivo 5 milioni per la cultura l'assessore Manzana annuncia l'arrivo di questi fondi sono fondi europei per digitalizzazione friulano e imprese creative a Villa Toppani la chiese dal Friul l'edificio appunto ancora da ristrutturare dalla prima pagina del fascicolo di Udine del messaggero Veneto ci spostiamo adesso nel Pordenonese e vediamo anche qui i titoli principali la prima pagina vede in apertura le stesse le stesse notizie che abbiamo già visto anche sull'edizione di Udine allora andiamo di spalla e vediamo le altre notizie antimafia ispezione nel cantiere del nuovo ospedale e poi venduti all'asta tre negozi dei fratelli Fioretti a Roveredo in piano perizia sul telefonino della donna uccisa dal compagno Maniago a settembre tornerà attivo il punto di primo intervento nel taglio alto il futuro di Ledlax ricerca e nuovi ordini dal Medio Oriente e poi è spazio anche al Polo Tecnologico di Pordenone maggioranza in mano ai privati sulla prima pagina del fascicolo di Pordenone troviamo i lavori in centro in piazza della Motta slitta il cantiere fondi per renderla multibediale nuova proroga di 61 giorni lavori sino a fine ottobre dalla regione in arrivo oltre mezzo milione di euro per la sistemazione per i cantieri della città e prima di passare sulle pagine sportive dei quotidiani locali e passare poi alla stampa sportiva nazionale è il momento di collegarci con il ritiro dell'udinese a St. Vite dove c'è per noi Lorenzo Pausa questa mattina che vedo pronto nel nostro monitor di servizio buongiorno Lorenzo e allora veniamo subito da te per le ultime sull'udinese udinese che oggi sarà impegnata in amichevole buongiorno Lorenzo buongiorno buongiorno Angela saluto anche i nostri telespettatori qui da Santfait sentivamo nella rassegna di oggi l'articolo sul gazzettino dedicato ai 35 anni alla presidenza dell'udinese da parte del patrono Gianpaolo Pozzo che oggi sarà presente nuovamente qui nella sede del ritiro austriaco per assistere all'incontro amichevole che i bianconeri disputeranno alle ore 18 contro lo Sturm Graz una partita assolutamente che sarà molto indicativa di quello che sarà lo stato di salute lo stato atletico dei ragazzi di mister Gotti che avranno modo di misurarsi contro un'avversaria che milita nella serie austriaca e che disputerà anche la prossima Europa League un test quindi assolutamente di primo piano al quale i bianconeri si sono preparati con diversi giorni di preparazione veramente intensi anche ieri una doppia seduta eppure nella mattina di oggi svolgeranno una breve sessione di rifinitura a partire dalle ore 10 per quanto riguarda invece gli aspetti tattici è molto probabile la riproposizione di entrambi i moduli che in questo periodo sono stati sperimentati ovvero il 4231 e il canonico 352 tutti a disposizione a parte Deulofeu che molto probabilmente non prenderà parte a questa sgambata per lui ancora una serie di allenamenti differenziati e così è stato anche nella giornata di ieri dove ha svolto soltanto la prima parte dell'allenamento pomeridiano assieme al gruppo la partita di oggi sarà trasmessa in diretta sul nostro canale quindi non perdetevi la telecronaca in diretta della partita che si disputerà a porte chiuse quindi verrà ancora rinviata per i tifosi purtroppo la possibilità di assistere dal vivo ad una partita dell'Udinese ci sarà il pubblico invece nella prossima amichevole di sabato a Lenz chiaramente però un po' fuori mano per i tifosi bianconeri sono uscite anche le prime disposizioni con gli spettatori che dovranno indossare la mascherina sugli spalti ci risentiamo allora nelle prossime edizioni delle telegiornale per raccontarvi questo match day si può chiamare così questo match day dei bianconeri grazie a Lorenzo per questi aggiornamenti allora ci rivedremo nelle prossime dirette durante le prossime finestre dedicate all'informazione adesso ritorniamo sui quotidiani locali di oggi ritorniamo sulle pagine sportive che mettono in apertura la medaglia di bronzo alle olimpiadi di Mara Navarria ecco qua la doppia pagina del messaggero veneto che apre il fascicolo sportivo mamma che Mara Navarria bronzo alle olimpiadi con l'Italia nella spada è determinante contro la Cina sconfitte dall'Estonia le azzurri reagiscono e in una sfida thrilling salgono sul podio ed ecco qua il titolo di apertura poi vediamo anche le parole appunto di Navarria un successo dedicato tutto al mio Andrea senza di lui non sarai mai arrivata fin qui porterò al Friuli questo regalo ha detto e poi vediamo le le reazioni a Carlino e anche il momento in cui è stata seguita la gara marito allenatore bimbo la tv con 100 piccoli amici che gioia incredibile fulcro della giornata di gloria al centro estivo del paese dove è scoppiata la festa e poi a proposito di olimpiadi ricordiamo che oggi scende in vasca Matteo Restivo alle 12.25 corona in vasca il sogno da bambino oggi ci sarà la sua gara rimanendo sulle pagine sportive del messaggero veneto di Udine andiamo sulle pagine dedicate all'udinese e vediamo l'udinese fa sul serio per Ramirez e ha un ritorno di fiamma per Cutrone Pozzo in corsa con il Torino per l'ingaggio dello svincolato uruguaiano e chiede informazioni al Wolverhampton per la punta queste le voci di mercato riportate dal quotidiano locale è un mercato che va a rilento scrive Massimo Meroi il West Ham ha offerto 4,2 milioni per Larsen l'accordo potrebbe trovarsi in breve tempo e poi vediamo per quanto riguarda il giovane Braff a novembre in campo o a gennaio può tornare a Udine scrive il messaggero con tutta probabilità Braff tornerà in campo con i giovanili del Manchester City e a seconda della sua condizione potrà tornare in prestito all'udinese a gennaio replicando di fatto l'operazione a distanza di un anno l'amichevole di oggi lo Sturm Graz primo vero esame Deulofeu unico punto di domanda chiudiamo queste pagine del messaggero Veneto facciamo un passaggio veloce anche sui titoli dedicati a Pordenone e anche al pallacanestro Udine vediamo per quanto riguarda il Pordenone il campionato prenderà via con il VAR l'Ovisa parla di una novità necessaria mentre la FIGC discute sull'obbligo del vaccino per i calciatori di serie A e poi invece per quanto riguarda il basket il messaggero Veneto propone oggi un'intervista a Michele Eveling quando Udine ha chiamato non ci ho pensato due volte a dire sì primo assaggio di Old Wild West per uno dei 5 volti nuovi del mercato che dice il recupero al ginocchio sta andando bene sono all'80% della forma e adesso andiamo sul gazzettino avevamo visto prima in prima pagina la foto di Paron Pozzo che esattamente 35 anni fa annunciò proprio nella data di oggi l'acquisto dell'Udinese ecco l'articolo che troviamo nelle pagine sportive due terzi degli anni in serie A portano la firma dei Pozzo 35 anni fa l'imprenditore rilevava il club Damazza era l'inizio di una grande storia la società è diventata un modello da imitare dal 95 e sempre rimasta nel massimo torneo e poi di spalla invece le voci di mercato si sfoglia la margherita per la difesa e l'attacco anche qui nell'articolo troviamo tutte le voci di mercato per quanto riguarda invece la giornata di oggi test in carinzia con lo Sturm Graz a porte chiuse come abbiamo sentito anche da Lorenzo Pausa la decisione presa dalle autorità locali diretta però su Udinese TV dalle 17.30 saremo live proprio per seguire questa amichevole dei bianconeri Chiudiamo anche il gazzettino e andiamo adesso torniamo anzi sulle pagine dei quotidiani sportivi nazionali andiamo a vedere gli altri titoli prima avevamo già visto la gazzetta dello sport allora prima di ritornare in prima pagina facciamo un passaggio veloce su questa pagina della gazzetta dove ci sono gli articoli dedicati al mercato e per quanto riguarda l'Udinese si parla di un riforzo sudamericano Corugio un'idea per la difesa scrive la gazzetta si seguono gli attaccanti Kwame e l'Amers ormai sfumato l'arrivo del polacco Glick e adesso torniamo appunto in prima pagina sulla gazzetta avevamo visto prima l'apertura grazie 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 fede abbiamo già parlato di questo quindi vediamo anche gli altri titoli anche sulla gazzetta c'è la storia dell'atleta americana Biles Shock scrive la gazzetta l'icona USA lascia la finale o i demoni nella testa e invece poi vediamo le super donne tre medaglie azzurre ieri dalle olimpiadi che bella forza la Bordignon alza un argento da 232 chili e poi vediamo altri due bronzi spadiste di rabbia scrive la gazzetta quindi medaglia di bronzo nella spada che abbiamo visto e poi anche nel judo centracchio prima molisana per lei una medaglia di bronzo nel taglio basso invece il calcio in casa Juve Allegri dice Ronaldo mi devi dare di più Allegri detta le regole da di Bala aspetto 25 gol e toglie i gradi a Bonucci Inter Lukaku in area con meno scatti l'idea di Inzaghi per la Champions e poi in casa Torino Carlo interviene sul futuro di Belotti fatta un'offerta molto importante per il rinnovo dalla gazzetta andiamo adesso sulle prime di Corriere dello Sport è tutto sport vediamo anche qui le medaglie alle Olimpiadi in primo piano anzi Pellegrini non è ancora medaglia ma è leggenda tu sei leggenda scrive tutto sport Pellegrini che centra la quinta finale nei 200 stile libero in 5 edizioni delle Olimpiadi mai nessuna come lei dopo l'impresa sgorgano le lacrime di commozione sono felice ha detto era il mio obiettivo e poi vediamo anche le altre medaglie tre gioie al femminile Bordignone argento nei pesi Centracchio bronzo nel judo Fiammingo Isola Navarria e Santuccio bronzo nella spada a squadre e anche qui la Juve non al Real per la Juve Allegri dice così sul suo ritorno in bianconero un atto d'amore Ronaldo resta di bala vice capitano e chiudiamo con il corriere dello sport stadio viva le donne titola il corriere dello sport Pellegrini da leggenda le azzurre si esaltano altre tre perle ai giochi argento dai pesi due bronzi da giudo e spada delle dodici medaglie italiane sei sono al femminile e poi le parole di Allegri su Ronaldo voglio di più il tecnico scuote il fuoriclasse portoghese lo riporta sulla terra da lui mi aspetto maggiore responsabilità ha detto Allegri con Bonucci e Chiellini dovrà aiutare i giovani ma il PSG resta in agguato a centro pagina la Lazio involuta brilla solo l'argentino l'argentino Romero con il Padova finisce uno a uno Sarri Sarrabbia lo consola Romero e poi vediamo l'ipotesi green pass per i giocatori ma anche per i tifosi tutti vaccinati i giocatori e i tifosi il presidente Figgici illustra la riforma della serie A B E C sul format A18 Club decidono i club dice Gravina e poi c'è una speranza per Ericsson l'ipotesi di alcuni luminari italiani arresto cardiaco da infiammazione reversibile forse si può togliere il defibrillatore lo ricorderete Ericsson che è stato colpito da da un malore da un arresto cardiaco mentre era in campo con la nazionale durante gli europei con questa prima pagina del corriere dello sport noi chiudiamo questa nostra rassegna stampa di oggi e c'è giusto il tempo per ricordarvi i prossimi appuntamenti in diretta sulla nostra rete il Tg come ogni giorno alle 10 alle 12 alle 16 oggi ci sarà un'edizione flash per quanto riguarda il Tg della sera tra il primo e il secondo tempo dell'amichevole dell'Udinese e poi alle 22.30 l'ultima edizione del Tg alle 14.30 case da sogno alle 18 appunto saremo live da St. White per l'amichevole dell'Udinese contro lo Sturm Graz collegamento in realtà dalle 17.30 il calcio d'inizio alle 18 la replica della gara alle 23 in prima serata gli speciali del Tg rincorsa al Green Pass boom di vaccinazione per ottenere il pass sanitario che potrebbe diventare obbligatorio anche per le scuole condotto questa sera da David Zanirato noi ci fermiamo qui per il momento e allora grazie come sempre per la vostra attenzione vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia buona giornata a tutti a tutti